Domenica 30 luglio cammina con noi tra paesaggi mozzafiato, storia, cultura, musica, allegria e tante tante sorprese. Iscriviti subito al Quinto Roccella Fit Walking, ti farai del bene e farai del bene. Con la tua iscrizione contribuirai a realizzare il sogno dei ragazzi assistiti dai volontari Unitalsi, sezione di Locri, e aiuterai la ricerca della Lega Italiana Tumori e delle Associazione Italiana Lucemia. Con l'iscrizione alla Quinto Roccella Fit Walking, oltre ai vari eventi, potrai partecipare al progetto Al Ritmo del Tuo Cuore. Professionisti saranno a disposizione al villaggio del Fit Walking per il calcolo del rischio cardiovascolare, in collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia. Proteggi il tuo cuore, iscriviti alla Quinto Roccella Fit Walking e ricorda, quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore. Fit Walking, passo dopo passo.